Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixelpax, siamo sempre qua in mezzo alla natura e oggi siamo qui con un nuovo TalkAbout. Oggi vi racconto di un'avventura assurda che mi è successo agli esordi del canale, quindi più di un anno fa ormai, nel quale di punti in bianco mi sono sguidato la mattina e ho perso tutti i miei iscritti e sono dovuto ricominciare da zero. Detto questo, via con la sigla. Allora, buongiorno a tutti. Oggi un nuovissimo TalkAbout è sempre qua in mezzo alla natura. Gli ho registrati uno di fila all'altro rispetto a quello di prima, quindi ovviamente se non vi piace questo tipo di format, mi dispiace, non ho letto i commenti che erano sotto l'altro video. Se volete, fatemeli anche qua sotto così che ho più informazioni per sapere se ne volete altri, così in mezzo alla natura, oltre che in camera mia, o se no, li torno a fare in camera mia, non c'è problema. A me comunque piace farli qua perché comunque sto all'aria aperta, è più freschino e anche più divertente. A parte per la gente che mi passa da torno e che mi guarda un po' male, ma... Dettagli? Allora, come avevo detto prima, oggi vi parlo di un evento assurdo che mi è successo un po' di tempo fa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se è successo anche a voi, magari siete piccoli youtuber così, magari vi è successo. È un evento successo tanto tanto tempo fa, molti di voi ancora non c'erano, e fate conto che avevo ancora la vecchia immagine di profilo, ma non quella dell'altro logo, quella proprio la prima, quella metà viola, metà blu, con io al centro nero, completamente nero, che tengo in mano la macchina fotografica. E al tempo avevo esattamente 32 iscritti, ok? Non che adesso ne abbia un quintale, però almeno ne ho un pochino. Per darvi una cognizione più o meno di che tempo era, era il tempo nel quale veniva pubblicato i vlog fatti durante il Giappotour, quindi il viaggio in Giappone che ho fatto l'anno scorso e che vi è piaciuto tantissimo. Ok, per intenderci, questo evento è successo esattamente all'uscita di, attraverso la narice del Buddha. È un video bellissimo, se non l'avete visto andatevelo a recuperare qui sotto nel canale, nel quale attraverso, tra le varie cose, un foro all'interno di una colonna di legno, all'interno di un tempio giapponese, nel quale se ci passi ti dà fortuna. Ed è tipo strettissimo, quindi ti infili, tipo tu, e ci passi per caso, facendoti anche male il più delle volte. Comunque, al tempo avevo 32 iscritti, come vi dicevo. Una mattina, l'ho detto la sera prima, era tutto a posto, una mattina mi sveglio ed eravamo a 30 iscritti, ne avevo persi due, e non è una cosa normalissima che può succedere, ti dici, vabbè, amen. Poi il giorno stesso vado comunque in università, mentre vado in università mi iniziano ad arrivare delle notifiche da YouTube segnandomi che avevano riscontrato dei problemi col mio canale. Io vado dentro a YouTube studio per vedere se c'era praticamente qualcosa che mi segnava qualcosa nelle notifiche, di solito se ci sono problemi lì te li segna. E praticamente io scorrevo per aggiornare, ogni volta che scorrevo vedevo il contatore iscritti scendere, tipo ho fatto 30, poi ho fatto 29, 28, 27, 26, 25, così. Praticamente arriviamo alla sera, adesso vi mostro la seconda foto che vi metto qua, e arriviamo alla sera alle 18 e mezza che io aggiorno e mi segnava 0 iscritti. Io ero tipo alibito, nel senso che come faccio in un giorno dopo la pubblicazione di questo video a perdere 32 iscritti in una botta sola? Ho fatto proprio un video di merda, cioè nel senso mi veniva il senso di colpa perché pensavo che di aver fatto un video, cioè aver messo più che altro, perché il video non era di merda, era fatto anche decentemente, però pensavo di aver messo all'interno del video qualcosa che aveva offeso qualcuno, perché oggettivamente come mai 32 persone si disiscrivono dal tuo canale così? Vabbè, arrivò alla sera, dopodiché dico vabbè, amen. Passa un giorno, il giorno dopo ho detto vabbè, vediamo se è cambiato qualcosa. Erano le 14.32 del giorno successivo, a giorno apro YouTube Studio, lì ero già, mi ero abbastanza depresso, fate conto come situazione, nel senso che, cioè, che tristezza, è andato tutto via, tutto il lavoro che avevo fatto negli altri anni, cioè, negli mesi passati era comunque andato tutto a ciaoni, quindi, eh. A giorno e mi segnava meno 2, mi metto qua la foto, letteralmente, il mio zongorale ho detto, aspe, calmati, com'è possibile che il mio contatore iscritti, e non era il variazione iscritti che si trova sotto, come potete vedere c'è scritto meno 29, ma mi c'era proprio scritto iscritti meno 2, nel senso che io avevo non 0 iscritti, ne avevo meno, ero andato sotto al numero, a non avere iscritti, e lì, tipo, ho iniziato a dire, forse non sono io che ho sbagliato qualcosa per questa volta, in un video non ho fatto una gaffe. Allora, inizio ad aggiornare, e magicamente, dopo tipo 2-3 giorni, perché comunque ci guardavo, ho chiesto, avevo segnalato la questione a YouTube, e dopo 2-3 giorni mi arriva la notifica che il problema è risolto, e mi hanno praticamente ridato tutti e i 32 iscritti. Quindi, in sostanza, non avevo perso gli iscritti, ma si era creato un bug di YouTube sul mio canale per qualche strano motivo, che praticamente lui me li aveva tolti come, me li conteggiava come non più iscritti, nonostante loro lo fossero normalmente, anche perché mi sono dimenticato di dire che io in quel periodo lì, comunque, avevo chiesto sul mio Instagram, che ho trovato ovviamente il link in descrizione, e sul mio canale Telegram, ovviamente, anche questo qua in descrizione, se i miei iscritti si erano disiscritti, nel senso che comunque, avendone pochi, la comunicazione era pressoché immediata. E loro mi dicevano, no, no, noi siamo iscritti, e poi mi mandavano anche gli iscritti, e loro risultavano iscritti al mio canale. Quindi io dicevo veramente, boh, che cacchio sta succedendo, cosa ho sbagliato, ho fatto... Sai quando ti vengono in mente mille, mille dubbi sul... hai preso un copyright, hai fatto quello, e hai sbagliato, e ti chiudono il canale, di qua e via... Cioè, comunque ti fai anche delle pare, quindi dici, è strana come cosa. Vabbè, sta di fatto che il problema è risolto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che l'audio fosse comunque buono. Fatemelo sapere ovviamente con sotto nei commenti, se vi è piaciuto questo genere di video in mezzo alla natura nel quale vi racconto cose. Vi ricordo inoltre che mi trovate su Instagram, Facebook, Twitch, YouTube e Telegram. Ovviamente tutti i link è qua stati in descrizione e vi invito a seguirmi sui miei social per rimanere sempre sempre aggiornati su tutto quello che faccio. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 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 Ciao